Dottore, dottore, mi dica Ho un chiodo fisso Prenda questo dopo ogni pasto Mi raccomando, a digiuno A digiuno Un po' difficile Eh, un po' che erano le quattro Dottore, dottore Ho sempre il vomito Tolga gli specchi da casa sua e... Sii pronto, mi dica Si, si sente male Si sente male Chiami l'ambulante E quindi stavamo dicendo che per il bambino sarebbe opportuna una cura Un attimo, prego No, no, ascolti, dottore, mi scoppia la testa Tutti giù, tutti giù Avanti Dottore, avrei una curiosità Ogni volta che bevo il caffè ho sempre male a quest'occhio qui Ah, ma deve togliere il cucchiaino dalla tassina Ah, la ringrazio, grazie mille Dottore Ho un problema da qualche giorno, un tic Ma di che genere? Vedete, vedete Guarda, guarda, guarda Tutto lì Mi sembra una cosa leggera Leggera? Mi sto trattenendo, so E non si trattenga, allora faccia vedere Guardi, guarda, 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 guarda come sarebbe Guarda, 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 guarda Ma stiamo tranquillo Stiamo tranquillo Si trattenga Si trattenga Si trattenga, di nuovo si trattenga Si trattenga Sopera Ascolta, la camera falla a te per piacere, te ne sarei gratis Va bene, ok, però oggi il televisore tocca a te Lo schermo del televisore oggi lo fai tu perché è pieno di polvere Tocca a me, no Tocca a te, dai lo sai che io non ci riesco No, ma sono contrario Dai, dai, fallo te oggi, io ti faccio la camera, poi lo ho il televisore Vabbè, vabbè, farò in, farò in Vabbè, vabbè, vabbè Salve, cosa fa? A me piace camminare da solo Anche a me, andiamo a farci un giro? Mi sono fatto una mangiata di secondi in una mangiata di secondi Non ho parole Che cos'è questo? Indovinate un po'? È un effetto ottico Non ho parole A me piace camminare da solo A me piace camminare da solo